Ciao e benvenuti in questo video in cui parleremo della regina o donna Viene chiamata regina o donna Dunque noi la chiameremo regina che è più bello, più simpatico E allora che dire La regina è il pezzo con i movimenti più forti negli scherzi Diciamo che lei è il pezzo più importante La regina è quello più forte del livello di movimento La regina si muove in orizzontale e verticale Si muove così Ma anche, attenzione, attenzione In diagonale Dunque anche questo movimento Si trova in D1 che è la sua casa iniziale Ricordiamo regina bianca su casa chiara inizia Casa centrale bianca D1 Può muoversi in tutte le case che abbiamo evidenziato Non può saltare i pezzi E può catturare tutto Tranne come chiaro che sia E a questo punto mettiamo la regina su una casa centrale Per vedere meglio il suo movimento Se fosse per esempio qui Può andare qui Dunque orizzontale e verticale E in più anche in diagonale Dunque chiaramente più è centrale più case può coprire Dunque davvero un ampio raggio La regina può andare davvero da tantissime caselle Cosa possiamo dire? Possiamo direi che la regina Ovviamente come abbiamo già spiegato più volte Non può catturare i propri pezzi Dunque se ci fosse un po' di qui Non può catturare il primo pezzo Per ovvie ragioni Come abbiamo già spiegato E non può saltare Dunque se c'è il pedone qui La regina può arrivare massimo fino a qui Ma non può andare sulla casa H5 Che sarebbe bloccata Perché il pedone fa da ostacolo Sostanzialmente ha lo stesso movimento della torre Più l'alfiere E dunque il pezzo è molto molto forte Andiamo direi adesso ad allenarci sul liceo Per vedere se abbiamo capito il suo movimento Andiamo subito a vedere C'è la donna Donna uguale a torre più alfiere Perché? Perché ha il movimento sia della torre che dell'alfiere Andiamo a vedere Dunque ed ora il pezzo più potente negli scacchi La donna Andiamo avanti Dunque qui Il classico esercizio con le stelline Dove dobbiamo andare Muovendo la regina il meno possibile Dunque in questo caso Vado qui perché catturo Catturo Ho già scalcolato Quest'importante combinazione Per così dire Ricordo L'ho detto anche altre volte Che Qui sono esercizi dove Muoviamo solo col bianco Ma negli scacchi c'è alternanza Prima muoviamo il bianco Poi muoviamo il nero Qui sono semplici esercizi Per capire come si muovono la regina Ora qui anche qui dobbiamo fare un po' una costruzione Sappiamo che possiamo Catturare No Questa No non va bene Perché devo cercare di catturare senza muovere la regina più volte Cioè Cerchendo di andare semplicemente nelle stelline Qui dobbiamo andare per forza qui Per forza qui Per forza Qui Qui Però poi non Ah In teoria dovrei fare così 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 Se si può fare Vediamo Non sono pratico Proviamo Proviamo Ah però non posso Ah allora dovrei fare così 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 Ecco ce l'ho fatto ragazzi Alla fine Era importante Perfetto Andiamo avanti Con la nostra regina Anche qua Vediamo di riuscirci Senza Pensavo così Così Oh sto sbagliando oggi Oggi si Sbaglia Ok Ok Perché questo è collegato Perché il problema è che Dovamo catturare questo Lo catturare così Questo dovrebbe essere Ma questi non sono collegati con nessuno È difficile Questo esercizio è un po' più complicato Ah no perché questo è collegato con questo Ok Questo è collegato con questo Questo è collegato con questo Dunque Dovamo catturare qui Qui Ah no no ok Prima questo Poi questo Questo Ok Vabbè Alla fine Ce l'ho fatta Ma che bravo ragazzi Sono troppo forte Ok Allora Vediamo di Fare anche questo esercizio Allora È complicato Mi sto Mi sto confondendo Allora Dunque in questo caso Devo catturare tutto Senza uscire dalle stelline Come faccio 1 2 3 4 5 6 7 8 Ce l'ho fatta Dunque ho detto 1 2 3 4 5 6 7 8 È incredibile 3 stelle Ce la faccio anche qui Dunque 3850 punti Allora che dire Provate anche voi Sulli chess Questo esercizio E scrivete nei commenti Il vostro punteggio Che dire Alla prossima Con il prossimo video E con i prossimi pezzi Così da imparare tutti E giocare una bella partita Di scacchi Ciao 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 Grazie.